si benvenuti in una nuova live benvenuti già mi sono preparato la cioccolata allora uscito la mostra per ucciderlo con bontà stiamo parlando prima della live no 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 parliamo ti banno stiamo zitti perché io come lo sentiamo io e mi prende questa idea che mi scrive si attacca il cazzo e non manda nessuno c'è benissimo benissimo hai visto ariana abbiamo iniziato da 36 secondi già una paraccia abbiamo fai conti cioè quelli dei dsa come per i pdp i dsa per i due invece che abbiamo forse ciao non ho capito non ho scusa mia sorella ciao nonna ciao nonna saluti da nonna da parte mia scusa scusa mi scusa mi scusa mi ma non me ne fiega niente ma da saluti già andata parte mia ma anche no a fare il barco ti conosce ed è saluta la per gentilezza certo diciamo giorno buongiorno vittorio emanuele terzo è il primo re d'italia giuseppe maria il secondo non mi ricordo chi era no vittorio emanuele secondo è fu il primo re d'italia e poi detto terzo vittorio emanuele terzo e ho detto vittorio emanuele seconde primo re d'italia sto mi andò entrambi un mazzo non morire bontà come tanto il suo cioccolato dove andiamo a caverna caverna si ok ieri c'è stata una discussione in chat trammate figli allora è arrivato ciros in chat ciros trattino basso e che cavolo ne so è arrivato una certa ilico invita qualche tuo amico poi lui mi fa ma non ho nessun amico allora io ho detto che se ne frega scherziamo 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 a un certo motivo vuoi che io invia mia madre detto certo perché no a sua madre quindi tua madre per la sua madre per la live a un certo punto arriva e fa ragazzi ma invece di stare a giocare andatevi a mangiare un gelato sì magari alle sette di sera signora ci andiamo allora se io posso trovare qualche persona per bene che posso dire oh mio dio simone allora ma non c'è nessuno o no cavolo ho una torcia per riparazioni a butta terra aveva regalo a regalo arrivo arrivo a cercare il punto no lo so più se vuoi barretta io io vabbè io ce l'ho viola prendetelo tu ho trovato una cesta dai aspetta che ti faccio il medinebio anni fermò ah si vuoi un medikit no non c'è me di nebbio tattaratta ma nello spregava il messaggio le persone le persone donde è la stessa una politica vera però un pompa leggendaria non è colpo un po non è lì andiamo qui simone che utilizza le ciabatte in casa tua non so se hanno sfruttato varia ma cavolo ma ragazzi e jack il dirigibile ho visto diamine si può costruire simone e meno male non ma con la cosa quindi lui non ne trovo gli anni i prezzo mei mai ho mai tu ci sono persone tutti i primi di straguaglian in pieni anni fa di farci il medinebio mi hanno spiegato per te no per te cosa cosa sono i barili i bariloni delle azioni non ha senso ho trovato dei corsi qua io ho quattro cildini bravo un verità di sport i cildini bello regalami traietà milica mia allora se trovo un babbo fucile grazie il cielo perché non ho trovato più ragà posso fare faccio la scansione e anche con maria quello che mi sono fatta via questa la via cosa la scansione che hai fatto ha scassato tutto ok da quella parte c'è il boss e ma che bello scansionare tutto chi vuole questo ragazzi no fermo vignaroli ma che vuoi simone sperando al boss da lontano eccola quello raga la mia vita mia tolto per rimanerci solo cd non si mi lasera filino e karma di voglia di tutte le cose per te quelli e così due è fuori da no dai amico le granate sono fuori moda fratello le granate si facciamo anche il corso ma cosa mi ha fatto scusa ci sono uno che quasi di anima passura da attenti no il posto sono gli schegnozzi un altro altro sopra vento di carri animale gioco schifoso anche perché 30 di se facendo fuoco ricoperto era ucciso ma ci sono ci sono ci sono ci sono ci sono ragazzi gente sento passi donna santa è maria dobbiamo pure andare in zona quindi che facciamo finiamo di ammettare un attimo il boss e costi scagnozzi che scassoni proprio a prendi l'altro quindi che facciamo raga tempo su reti costo andiamoci no almeno il boss perché non è deciso e no e mi è lacerato perché c'era pure il cavolo l'ore eccola eccola dai dato spara solo a mescolurido pezzetto sento passi credo sia una guardia spara da sopra che facciamo di sparare quelli da sopra raga venite andiamo subito nel cavolo andiamo nel cavolo se avete un ricorrazzati metteteli no non ce li ho vabbè allora costruiamo e basta raga attenti e super attenti se vengono facciamo un casino intanto lo stiamo prendo fin a costruire appena viene simone col quicidesimo n quello questo lo so perché mi fatto mi larga mi tiene delle piccole lagate sul gioco poi a me adesso ma tirata vivo vivendo questo ce la voglio provare ancora non sono tutto compinto pompa evico curiamoci e scappiamo 150 e la mia bucura bomba ok simone come温iva bomba quel mini anac un'altra ultima dono solo l'ho creato esistato comunque comunque ok solo sono non fa capace la zona ghiacchia questo ragazza è un rosa fai c'è un'ora di nebbia io pure somma si faccio farlo cerco di fare molto veloce ma ne è certi dai 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 lui nemmeno a dire che lo chiamo la fortezza raga io vado a no ma io vado a prendere ragazzi c'era un altro lì c'era un altro lì c'era un altro per cui si sta puntando a quello che poi venga nella nemmeno preso un pompa vabbè la ciccia il medinebile sicuriamo ma c'avevo c'è uno schalter adesso penso questo nuovo per cui continuano a provare cosa si può un video di primo pompa attimo. da chi ha venuto aiutare a me io avevi vengo qua al minuto questo storico dirigibile che me non pezzo in 6 quindi proprio no raga arriva gente dal dirigibile arrivano verso simone raga mi lascerano buongiorno porca di quella che hanno preso a te ma si è detto sì 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 ragazzi mi hanno ammazzato dal dirigibile parca pottana no perché devono scassare stiti ma perché stai facendo una build però perché vedono 27 da sotto 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 da dove si va ben possibile mauro tutto questo eco non lo so tutto il canale lui è messo e diranno quelle cose cioè si sente solo lui nemmeno mio nonno che urla in giardino e iato gli è detto ma una managa allora dimmi e per i dimmi come da io leggo come posso fa e non è che so di uscesi in terra costruzioni era costruzioni ecco non ripete lo metto oggi oggi sono arrabbiato per colpa di quella brutta persona coso per colpa di coso di di coso e non lo volete sapere voi ma io devo togliere un attimo pronto allora adesso non lo ecco no noYU frozen antenoli o meno costruzioni normalmente wood gro Spin Councillor non lo hai capito no non lo voglio capire ma lui piccolino un buon esempio di seno non lo animo fida dei filati perché mi sa che sono qualcosa che ho salvato quando avvisato la è io ti ho salvato perché il ballo della team team era il ballo della team quello questo è questo ballo quanto è bello è lo soppato ma poi non mi capisco che della team ma non è vero mi sembra non so perché mauro tutto questo allora andiamo in chat e abbiamo l'ultimo boi team allora andiamo dire a dove c'è il posto quello con il cerchino termico devi più quello che c'è ma che cazzo sta dicendo l'avete cambiato quello con il mio lì prima stava là dove ho fingato io lo so ma l'hanno cambiato ma mia c'era capore il gioco io ce l'ho in italiano e mi dice you don't sprint but you don't have energy questa ma potete lavorare voglia porti mai ma chi ha messaggi che stavamo dai mi ero lì il drone prendi il cannone a caverna e poi ti prendi il canone alla forte andiamo quindi poi in caso tu vado da voi c'è simone penso io lo prendo io scusano la sicurla di così tanto stessimo e carichi contrapassano la ricerca domani se no ci avete quattro tutto te lo dico che non è individuare il voto simone che non mi ha dato i dati ma era grave no aspettate c'è un problema io sono già gabriele che massimo d'amici perché mi hanno amici ragazzi tutto questo coso sbrocco è mauro te meno mauro te facciamo che quando senti confusione urli silenzio perché io non posso trattarmi le orecchie ma almeno sai che significa fratta gli altri distrugge i miei si è no capiscono che a venire la costa frastagliata ok vieni carichi ci fanno nel numero di un attimo noti no sì 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 perché 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 è il deficiente che sta bucando tutto un po' a capire non è un po' a capire chi può essere una cazza non sa mai che venire a non vedete se è un errore non è successo con la testa a me non mi serve mauro anche se i ragazzi venitano nelio e già vi sono fatto al cosido non mi fa ma così cosa ti sei fatto poi da quelli dei picchi per i nienti guardare scende tutto ragazzo fucile viola ha trovato che ha trovato a me mi ha fottuto davanti gli occhi no qua viene intetto diretto sotto cura momenti fede di a questi servono un po di colpi la cava il caso povero che ragazzo mi piace non c'è la città c'è la città città io porto gli scendini e così poi una serie io due impulso ragazzi servono splash unite che ne ho quattro qua non sono nulla ma non è insieme no c'è lo scendone io sono full ha scritto sopra una lapide cassa mia non c'è più e qua andate de bull buttiamo giù un palazzo si fa prima con l'autobus ma diamo e uccidere quello dove rega a pompa spammer ci sembra che stasso per colpa poi si vede che ci ci do no ma scusa ma dai martin sei mosso all'ultimo testa vera ma te l'ora no non è normale che facciamo questi ogni due per tre e io voglio dare l'ora di fare le pere 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 abbiamo dei miei problemi e poi la gira a piccola è stato chiede di a questa blu questa è la bassa tra no regalero col busto ne volcare armata fammi una bomba scuro un disastro l'ore 6 è normale farà che leggende mi sa non l'ha capito aspetta prendiamoci tutto valuta del luttare no ritrovato distruggio pure l'albero tu se vuoi poi ricavare questo qua quale quello singolo colpo però stai attento si chiede quest'altro un attimo bene se no sei molto ma riporto delle bombe scudo e io cittadini sicuramente le sfasciate che è spesso soltanto delle abbrisciate una legge armato ai aspettando a te la brezza curaccio o aspettare di torretta scendere prendere queste lasciate io la simone anzi no prendere questa la torre la torretta stai attivando i piedi mi sa che vede che c'è il dvd c'è il dvd un'altra c'è solamente il giornaliero voi prendete un busto, abbiamo doppia arma no no prendetelo poi è difficile tenerne due come quella volta con due carri armati un casino si muove manco c'era non si muoveva troppo divertente ecco l'hai visto te andiamo da qualche parte e simone e tanto si sente comunque il caro armato da 100 km oh dai no no rica 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 dove è molta sebra se voi parlate tutt'altro c'è gente che ha vitti porca miseriaccia no ragazzi sono i seti che sconfiggono l'ordine immaginario cioè i seti devono vivere scemo e questi qua è l'ordine immaginario raga c'è gente là sopra c'è il boss guardate il lutto a terra 1 si scende raga mi sa quasi andiamo a penaltitare quello che ha ucciso raga guardate il lutto che c'è qua sotto simone attenti che poi io ai baci a russi di vento cercare armato è la rivoluzione spariamolo se non è necessario sta arrivando salite 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 sul mio siamo di guerra l'ho fatto cadere è morto di errore agente da cavicchi c'è un tipo una lega a terra ma muori fatela la vita dietro è un e un e un e uno c'è la scelta per favore ok 19 triplo 4 blu cinquantesimo un altro porto e viste cose non ho più materiali infame no te che hai tu qualche live io ho zero però fatti io perché me l'avevo direi voi me ne avete stilata di una a due pure scritto al lato 5 miliardi che volete ragazzi facciamo la bomba scudo ragà la bomba scudo venite la bomba scudo arrivo il bette per quelli l'acqua non credi che c'è una poca vita io c'ho il centro di centri con me con me con un attimo forse full ragà andate ok dai riusciamo riusciamo ormai non li hanno restato vabbè ma sempre un ragione che scappa ucciso ho una mano 32 1 permesso per fatto male è scappato no no ecco la riga un altro neanche che sarà lo scassare e che è bianchissimo ecco guarda cosa vera gas hanno qua davanti per altri amai tutti qui c'è la corona per chi la vuole io era messo davvero io non ho chiesto mauro 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 se lo faccio rispondere la scompa rio la prima tua e non ci senti in mano per non c'è sì è nome che c'è davanti da me io ho chiesto di me da me a me raga scendete sto facendo distruggere tutto fai non è capito tutto e a me serve vita ragazza qua davanti non mi importa mi sto curando e muori fatela una vita 35 bianco dov'è ragazza non lì davanti a vieni a corona mauro saccorata n arrivo mauro il primo questo se vuoi lo è ciao no l'ho detto che l'ho lasciato mi chiedo me l'hanno stilata regal ciao ci ha molta vita regalcio hotel dvd di ciò che abbiamo più dico mare che ho fatto il pomaro grande prigilancio per la bomba scudo buttala buttala morto finito tirare 58 benissimo raga simon vai da da coso vieni veloce raga la safe dobbiamo scappare regaio 43 39 108 di vita c'erano dei medici raga dobbiamo scappare raga venite saliamo sul dirigibile è proprio morto sono morti tutti un è morto proprio c'è gente raga saliamo sul dirigibile ragazzi dobbiamo salire sul dirigibile no c'è gente sul dirigibile c'è gente sul dirigibile no raga non saliamo c'è gente sul dirigibile raga saliamo e andiamo dall'altra parte no raga non c'è più gente aspettiamoli qua no raga non c'è nessuno salito no ragazza venite raga salite 31 31 cosa dove ragazzo questi qualcuno davanti sono morti tutti hanno pochi cure ormai o lo vedo lo provo a cecchinare 32 raga dobbiamo andare la rega la safe bella lontana e sta qua quello con la skin di sempre rosa no raga che mi ha guidato davanti scusa raga dobbiamo scappare la rega andiamo sul dirigibile basta è l'unica raga salite sul dirigibile aiutare la vita aia 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 raga utilizzate i cannoni cavolo no mauro raga c'è gente qua dentro però dobbiamo scappare ho capito e doveva scappare bravi cavolo e vabbè mauro era buonissimo raga attenti che lì sopra c'è gente mauro c'è un botto di eco io non sto parlando mauro c'è ecco ma che poi da me dimmi come si esiste me lo faccio ma io non lo so ricordo sempre non vivo con te non lo so e raga poi noi andiamo in un palino perché ci viene gente da dietro raga venite una bomba scudo vabbè voi non mi ascoltate ragazzino sparate che volete raga ci viene gente da dietro venite qua che c'è una bomba scudo vignaroli sali ma io non voglio vedere simone però ok federico quando federico è il migliore fatti gli scendi di fede almeno così altra cosa non si spera come sono no per avere perché l'ho stato in marco non sono la sera scellaickeno no 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 non sono no io che stanno a volte ho accontrata la quarta questa è un lato saranno i carai con lo come sky base ma se voliamo non sceglii che al furgone 20 doppio 29 Fede tu pusciateli Ragazzi stanno lì Non sparate lì Non devono restare Dovete pusharlo No dovete push quello che resta Si sparano anche a sinistra Sparano anche a sinistra Sparano anche a sinistra Quello in cielo Ah si dov'è La 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 29 bravo Ok Si spavano Pure dietro a sinistra Che ti sparano pure da sinistra Mamma mia Ragazzi non ho più materiali chi ne ha Tanto che se ti distruggono La build a sinistra Via Ragazzi mi servono materiali Non ne ho Build a Fede build a build a build a build a build a build a non ho materiali Ragazzi E dice no 0 Eh Fede 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 Ancora Qua si vanno uccisi Qua si vanno uccisi Senta a sinistra Scirola 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 Sta qua sta qua sta qua sta qua Regà 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 Andate qua Verso qua andate Andiamo 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 in zona Eh io sono morto Qua c'è la zona Fede Eh anch'io regà L'hai superata Vai in città Vai in città Eh ma ci si vuole quanti player Date qua Date nell'angolo e camperate È impossibile Un po' non una persona Si non potuto vendere al centro regà Mi ero linee di vita materiali Eh che cavolo Si qua Madonna salita Zitto Mauro Zitto 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 Gli sto consigliando E stai zitto Prendi lanciarazzi che mo ci pensiamo noi assiste mali Eh mi dobbiamo Questi sono persone sotto Regà stanno ci sono i cosi sotto Nooo Chi c'è sotto Simone c'è chi va da noi Noi auguro la cagarella sotto Oggi c'è spugli Sparagli Eh l'ho visto Regà mi do curare E' una vita E' un morto Ma Si non è Quello Io so Indiei Io non ce l'ha fatto Non posso vendere il coso Disfrotto Passano lì Vignero Bastardo Eh sono Molte La Ficcita Non me ne vedo Anni Con la destra Attento C'è Vandare Vanda Dietro Dietro Sì Ma non è giusto Ma sempre in un paniere Ci troviamo Un modo Nell'altro Dietro Fede E' da dove Pure dal lato Pure dal lì Vabbè È impossibile Questa C'è nemmeno Arena Che ieri L'ho fatta E' più tranquillare Che qua Si è vero E' vero C'è vero Guarda Guarda Che tra ieri C'è il 15 In una safe Invisibile No C'è impossibile Raga C'è Fede La montagna Ma simone Apri lui E' morto E' no Perché Era In un casino Non avevo visto Ignora riprenditi Lancerazzi Lancerazzi In un casino C'è Per cui Che E' da dietro Così Così Spammer Ma era pure Morto Ma quando Due Di vita Ma 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 C'è Raga Impossibile No No Sulla Quasi No No Già Sbrigare Partito Ragazzi La facciamo Con il Celso No 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 Madonna Canta Non Tolgo L'eco Ma Sì Vabbè Questo qua Che vuole fare Le provate Le provate No Guarda Altrima Di fuori Sessi Guarda Lo scarso Proprio Ma Poi tutti Con la corona Cioè Sembra Un evento Non Lo Da Ma Che cosa Sai Che Schifo No Ragazzi Quindi Raga Partiamo Da Caverna Comando Ci Prendiamo I Jetpack La Facciamo Con Il Jetpack Ma Ci vuoi Troppo No Io Non Mi Mi Non 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 Lo Dico E Non Me La Faccio Perché Ma Io Non Devo Perché Perché Prendiamo Jetpack Le Gomme Te La Butti Giù E Fai Parkour E Senti Allora Vuoi Particci Le Costruzioni Raga Dobbiamo Prendere Il Jetpack Andiamo A Caverna Comando Tu Vado A Prendere Le Gomme Che Secato Me La Butto Sotto Al Poglio Da Caverna Ok Prendiamo Due Jetpack Tu Simone Prendi Albe Tutti I Materiali Che Trovi No Simone Viene Con Prendi Materiali Poi Tutti Dobbiamo Scassare Premiamo Tutti Il Jetpack Sai Io Mi Divolgo No Se Ne Mauro No All'entrata Regali Stanno I Jetpack L'entrata Ma Che Cazzo Riga Mauro Riga Viene Zona Aspetti Proteggo Vieni Fede Venite Qualcano Ragazzi Se No Guarda Riga Tu Mi Credo Le Trovate C'è Simone L'hai Trovato Seguimi Seguimi Ti Dico Io Ti Pazio Tanto Acqua Perché Se C'è Cosa L'ultiamo Vabbè Gammati Che Basta Dobbiamo Prima Riga Io Prendo Spassare Ho preso Il jet E Non Sono Andate Lanciati Dove Sono Andate Non Mi ha Di Sentir Andiamo Lì A Prendere La Legna E La Legna Perché La Legna Raga Posso Parlare Senza Che Ci Sono Altre Voci Vai Uno Costruisce La Sky Bess Inizio Io Poi No Di Diamo I Materiali Se Ti Finiscono Si Raga All'inizio Facciamo Le Legne Tanto L'inizio Non Si Vede Si Si Lo Facciamo La Scala Modificata Abbiamo Una Tattica Perfetta Per Cosa Io L'abbiamo Fatta Liglioni Di Volte Raga Mauro I Dentro Jetpack Simone I Deggi Faglia Va Bene La Giusta Cosa La Giusta La Giusta Porta Se Mi Dalle Gomme Quelle Per Terra Di Do C'è Lo Faccio Ma Ora Da In Jetpack Se Novi Di Siamo Tutta La Sky Base Ma Io Mi Mi Forte E Mi Faccio Morire Vabbè Ma No Capito Per Sky Vede Non è Colpa Nostra Se Siete Scarsi Non Hai Deviato Manco Jetpack Io ce l'ho Devi darla Non ci sono Non volete capire Che non ci sono Ma le vede Che non stiamo In seconda guerra mondiale Non stiamo andando Il jetpack Ne è stravieno Dentro ce ne sanno Minimo 5 Ragazzi Gente Non ho armi Bene Non ho Giante Come delle macchine Si muore Le sai Come Deva Ragazzi Ma mi volete Aiuta Santo cielo Ma che voi Ma abbiamo Non scassare Aiutiamolo Sennò Senti Se simone Non è tanto Utile Io lo lascio Ma se è uscito Ti dobbiamo dare Un aiuto Siamo Allora Allora Se ci vuole uccidere Bene Non lo vediamo No ragazzi Non butta Decidi La sky Io giuro Che quito Fede Noi due Littiamo C'è Non No Io pure Io giuro Che Dove Ma volete Venire Madonna Ma Tutti Che volete Noi abbiamo Detto Favano La sky Voi Sì Sì Ma Va Perché Dove Adormire Ma C'è Le vergognose De vergognosi Ve lo dico Non ci possiamo Possiamo fare Perché Sappiamo Che moriamo Non la facciamo Ma sento che Voglio La far Io Vede La fama Voi Se volete Abbandoniamo La rifacciamo Noi non la faccio Allora rega Famo Cavicchi Tu la vuoi fare 200 Non mi piace Ad aiutare Simone Va bene Va bene Va bene Va bene Tu vuoi fare Un game Con me A parte No Perché Non è giusto Che stiamo Quattro Sì Ma Poi Ma ora Abbandonati Facciamola Facciamola Simone Ascolta Mi per cortesio Oh Però rega Se non piate Il jetpack Che vuoi Da mesi In mo C'è Ne che Non Lasciate In pace Non No Continuo No Continuo Mi Ma Capote Sì Va bene Ma Sì Mò Niente Sì Mò Perché Ho fatto Perché Mi ha predato Ma chi è Cioè Rega Prima cosa Divertente Possiamo I falla Facciamola Facciamo Simone Ok Un'altra Challenge Io l'avevo Pronto E decidiamo La challenge Decidiamo La challenge No No Rega Famo Sky Dai Divertente Mauro Ma Non vogliono Simone Decidiamo La challenge Tutta Voi Decidete Voi Allora Anche Questo Vabbè Siccome Decidiamo Sempre Io e Simone Facciamo La sky Bash Per favore Simone Va bene Desimo Senti Vamo Un'altra Challenge Allora C'è Rega Ma Allora Scusa Di Cirena Challenge Non Facciamo La sky Base Perché La sky Base È Una Una Cosa Che Fa Cagare Fatemelo Di Un'altra Allora Secondo Voi Nella Battaglia Reale È Fatta Per Fare Queste Cose Per Sparare Per Divertirci Esatto Non è che Non è fatta Per vincere Cioè Sì Magari Un conto E sparare Un conto E vincere Allora Vogliamo divertirci Con le challenge Simone Fallo Fai quello Che Decidere voi Qualunque Non Non Dico Non Dicono Fare Una challenge Di Raga Calmi Simone Vai Vedere Un attimo Il messaggio Vabbè Ha detto Facciamo La scarpe E poi Facciamo Cadere Nel messaggio Gavichi Già lo sappiamo Non è vero Non è assolutamente vero Non è vero Ma un gioco Se ci fanno cadere Io a Fede ce non andiamo È la famosa Sua di Fede Vabbè Tanto ci fanno sicuro Il cadere Però facciamo E poi tanto Fanno cadere E noi ci fanno Aspetta un attimo Simone Puoi andare A prendere il telefono Per cortesia Vabbè Ci fanno cadere Già lo sappiamo Ma non è vero Oh Quello che direttere Dei segreti Eh Cioè Quindi Ci fanno cadere Lo sappiamo Lo faccio Fallo Fateci cadere Io me ne vado No Simone Fallo Un attimo Non so Ne si fa Staccale Ma è vero Non è così Ma che sei pronto Regal Scusa Si sono mutati Beh ma lo spieghiamo Tempo Perché tanto ci fanno cadere Oh ma se ci non Certo No Ma io pure Ce ne andiamo da soli Fede E non mi fa Sulla scala Magari che ne so Gioca Giocavo pure Che ne so Adesso Simone Metti pronta Simone Oh Ah Simone Madonna Santa Oh mica Simone Puoi mettere pronta Per favore Simone Ci sei Quindi che famo La skybase Ok Vi siete mutati Vi siete chiamati Saliamo Ci vuole Come ti ho detto Fede Scusatemi Così almeno Se loro muorono Almeno Non li curiamo Manco Almeno Non ci Non Dove andiamo Sempre lì Perché lì è la miglior zona Oppure possiamo andare Io ho messo il ping Per dove andare a prendere i mazze Tutte le cose Raga possiamo andare anche a pinnacoli No frate A pinnacoli A fare la skybase a pinnacoli E in ogni caso anche a giocare a pinnacoli Sì frate Se lo puoi ascoltare Andiamo qui Prima di Simonio Ci sentimo Ecco dimostrazione di quello che faranno Sì Ma questo punto Non facciamo niente Scusate Ma cosa abbiamo detto Ma cosa ne sapete voi Ma fatti nostri Scusate Allora anche le guerre Così Posso dire una cosa C'è un senso E appunto Posso dire una cosa No Dai Allora Noi fanno la skybase Però voi raga Quando si fa la skybase Non è che dovete piarmi Andare Se trovate gente busciarla No Non è andato Tu la vuoi fare? No Onestamente Perché se no Siamo sotto dalla skybase Scusate Non No 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 Guarda prendi un'arma Poi prendi il jetpack e te ne vai Fai così Poi se non lo riesci a utilizzare ti rianimiamo Trovo il cecchino il rovo Trovo il cecchino ma non mi è ancora scuro io Poi ti rianimiamo se mai Poi ti rianimiamo Se mai si muove ti rianimiamo Se mai si muove Ok bravo Io non c'ho il jetpack Raga Raga lì da Simone ce ne dovrebbe essere uno Ce ne ho uno raga E venire qua regata Raga l'ho trovato io Ma io ce ne stanno quattro Teoricamente Qua ce ne stanno quattro teoricamente È uno allato Dove? Sì qua Dove ho pingato Oh vedi che riesce a utilizzarlo C'è veramente Sì ce ne dovrebbe essere quattro Però mancano già tre credo Ok noi li abbiamo preso Io con un cecchino Giampiamoci con il lancione E andiamo qua rega Andiamo a deposito truciolandia Che si fa il legno Che è la miglior zona Simone non c'è dare col jetpack Non c'è dare col jetpack Non c'è dare col jetpack Ma cosa Maria questo è sempre a fraintendere Io rega bianco un po' di rocce Ma ovvio fede devi prendere tutto Raga lì c'è un uccello Simone ammazza Lì c'è un uccello viola C'è il mitico legionario Cos'è che c'è stop Ragazzi una macchina No 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 Gente C'è un uccello un corpo Come lo vuoi chiamare Venite di qua Ragazzi di qua Perché Così state Stiamo con la macchina Attento simone Noi gli sparassimo E li spara Oh e lasciali in pace Non rompe Ma che stai C'è un carico Di sponico Dipendi sempre Ma che tu scusa Mi sparano come faccio No Dimmetelo voi Sparate ricalci rovinate Tutto Io no E loro poi ci seguono Fidati se riuscidiamo Non ci seguono più Sì se morire Invece Come prima Non c'è Non ci segui più Ragazzi E finiti Ragazzi Ma io mi hai fatto Sparare Fede Vi andiamo a fare Vieni E mi ha dato una mano Deve va Ma io non c'ho già Duecento di mattoni C'è per il ragazzo Ragazzi Non tanto In totale Dico Trecento Ragazzi ma se noi dobbiamo Farmare a Cruciolandia Vi dobbiamo liberare Prima o poi Il ragionamento Non devi andare a farmare A Cruciolandia Frate devi andare fuori Perché mi ha dato un legno Secondo te Non mi ha detto Mi metto sotto Che magari non trovi la gente Ragazzi mi hanno rotto Le ruote Stizzazzoni Sono morto Mi hanno distrutto La macchina Non è colpa mia Cioè Cerco di scappare Mi distruggono La macchina Oh Sparano a me No Sparano Vedeviani Recuperate la scheda Di ricavicchi Che lo rianimo qui Eh Lo rianimi Lo rianimi Eh Vieni a dare una mano Eh no Sto sempre arrivato qui Prendi l'adesimo Perché io non ce l'ho Cioè Ma si sta affaitando Non volete capire Non volete capire Cioè Se ci buscano È colpa nostra No Bene andate Eh ma stiamo scappando Mi hanno distrutto Scusa eh Che ragionamenti Che ragionamenti Eh Cioè Ragazzi Ciao Avete fatto una cavolata Ve lo continuo a dire Ve lo continuo a dire Stai facendo tutto Un casino Sì Santo cielo Ma vi dico E tanto siamo Poi sembra sempre noi Che moriamo sempre Che siamo nabi Ma se ci buscano Cosa facciamo Scusa eh Oh ma io se me buscano Non me ne vado Me ne frigo Perché non E me ne stavo No no La prossima volta Voglio vedere se tu Ti esci a vivere Con un'arma Con un'arma Voglio vedere se ti esci a vivere Con un'arma Perché poi Siamo in tolta Anche se muoio Anche se muoio Voi restate lì a spragli Cioè Dici te C'ho un'arma C'ho un'arma Come faccio Eh Allora Anche se me ne vanno Questi tanto C'ho un malo Veso Se mi rincorrono Ma che tu E allora Scusa perché Sì Te ne vai magari Poi va pure una vuota E le ammazzite tranquillamente Vabbè Pure lì vado simon Ma dai Ma tanto abbiamo perso E che non mi riuscite a prendere Perché tanto siete Ah ah E io ho preso Poi di capicchia adesso Sai Che ti devo fare Ho preso Poi di capicchia adesso Sì Voi muoio Vedete Con la quale Io mi muoio In mente A guardare La vostra morte Ho capito Però Mi state anche un po' calma Cioè Mi date i fastidi Vuol fare così Perché nunca Per certo Simone Urla Non ne vado Non c'ho C'ho Quello di prima Ok Madonna Santa Vieni da me Che tra un po' Partiamo Spesso Che li Ma capirci Non c'ho Niente Di materiali Praticamente Eh io sì Io c'ho Quasi full legna E una cifra Di mattoni Vediamo poi Quanto ce n'abbiamo Poi semmai scendiamo E facciamo una partita Vieni E io parto Perché c'ho la zona E io arrivo Con la cosa Io tanto c'ho Bende Quindi tranquillo E stanno arrestato A me No Restato io Vieni Mi puoi mettere Il ping poi Alla zona Andarri Sì Grazie Oggi sono qui Ora mi divido Nel faccia Che serviva Quanto cavicchino Amore No Cacchio Ho fatto Rega Sta qui Vieni Vieni Ho sbagliato Io ho piazzato Per sbaglio Quello No Fede Non ce l'avamo Cura Ti serve un medit No C'ho bende Però comunque Sparano M'hanno distrutto È Cavicchi Che ha sparato Serio Sì Ma se sto ancora Sul delta plano Com'è possibile Scusate Scusate Non ho sparato Ma andatevene a dormire Se stavo Sul delta plano Come faccio I superpoteri E' madonna Ed è usa il jet Io provo a venire Ah io ho preso Don più un camion Che almeno così Magari arrivo prima Ma andate Si volete fare E cadere Già sapevamo Fede Ha finito sotto la mappa Che Ma che sta facendo Sta a volare Grande Grande C'è un player Però quello Devo uccidere Ucciso C'è l'altro Il teammate Dove Mauro? Non lo so Io ho ucciso questo Arriva Dietro Da me? Ucciso? Eh Ce n'era anche un altro Mauro Ciao Torniamo Senti Io torno Alla lobby Già lo so Tanto E mi hanno fatto Casca a loro Perché Oh ma volete Tornavi Volete smutare Madonna santa Non ho capito Che abbiamo fatto Noi Abbiamo Soluto Lo fa La challenge Sono Che hanno iniziato A rosicare Oh ma se Non andavamo Tanto Almeno Dai ragà Non me ne andate Dai Ma rifacciamo La sky Bess E colpa Nostra Dai No Andiamo a fare Bios Due Contro Due È È È Andato Di fatte Colpa Nostra Appunto No Non passiamo Per distrotti Oh Qui adesso Andiamo a fare Qualcosa Due Contro Due Perché passava Di stranzi No Ma cosa Vi ha detto Niente Non urlare Cioè Chi vi ha detto Niente Dite cose Che date Per scontato Che diciamo Noi Ma Cioè Come è possibile Prima dite Prima dite Ci disattiviamo L'audio Per dirvi Che ve la distruggiamo Potrebbe essere Vero Dobbiamo giocare Tutti insieme E vuoi parlare Tra voi due In chiamata Ho capito Ma se ci vogliamo Dire una cosa E se potrebbe essere Una cosa Tra Veniamo a fare Gli schiavetti Ma chi vi ha detto Niente Mi siete proposti Voi Mi siete proposti Voi Appunto Venire Perché a noi Schiavetti Non l'abbiamo fatto Nessuno Noi abbiamo detto Volete venire in là Io sono Venuto di volontà Quando mi sono arrivato Anche Sandro Tutti di volontà Non potete strillare Perché c'ho le cuffie Che mi stanno esplodendo Abbassi il volume Non mi la fai Arriga Io ho il volume a 20 Ho il volume a 20 Sul computer è poco 20 E io mi sento Come se vi sto Come se Eh sì Ma è il volume a 20 Quale Il volume di fortemente A quanto ce l'hai Eh il volume di fortemente C'ho al massimo E allora E che Squadra 3 No guarda E nel squadra Squadra 1 Squadra 1 Ah nel 4 Eh ragazzi ho capito Ma Se abbassano quello del computer Comunque Ma si abbassano tutti No Che voi Sono due volume Si parate No perché se io metto a 0 Quello del In generale Metà 0 Tutto Ma poi lo so Meglio che c'è C'è un computer C'è un qualcosa di buono Eh questo non lo so Però io credo Che mi prendo questo Pure questo Pure questo Dove stanno Nel Team 1 Usciamo Simone No No Siamo Fali push Fali push Ah voglio Che 27 H Vicky Non salire Troppo Moda Sì Sì 30 Vabbè Spamano Stiamo Spamano Coltre colpi Stavolta Colpi In questa Partita Senza che si Carica Perché bisogna Rettirsi Giugliano Da Vicky Famare E stare Coltre colpi Esatto Guarda Non ho preso Ancora Amiga Rieta Rieta Di fare Niente C'è Stati Facendo Tutti Che bello Vi abbiamo obbligato a morte di venire a fare le live Mi siete proposti voi e venite a giocare Cioè non è che nessuno vi ha obbligato con una pistola puntata in testa Madonna Per divertirmi E voi Mi ha fatto Strescarsi Stato Mi hanno fatto Mone E ho fatto Fatti Questo Fatti Questo Questo Pusciamoli Vabbè Fagli No No Li faccio Curare Magli Tra Yard E si Stanno A curare Ormai Si Mori Attento Arrivo Mauro Non mi interessa Bravissimo Mi arriva un buon Pum Buon R Mi sa che Mi è finita Adesso Che non ho Devo Che vanno C'erano Andiamo Sempre nel 4 Ok Andiamo nel 5 Noi Simo Fermo Fermo Aspettiamo Posso prendermi Questo Fede Mi guarda Il tuo pompa Quello Siamo Nel 5 Grazie Buona che si Buona che si Buona che si Aprile a maffa Eh Ah 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 Benissimo Ah 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 A me è una R C'è una R Buono Non lo è Sotto Io provo Stasera Questo 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 Nel 2 Il 2 Quello Stalla al bordo Si l'ha visto Eccomi Dopo una corsa campestre Andiamo qua Vai Questi sono Questi sono Fortale Di simone Caro Che Bene Freca La Che Sembra Che Vanno Stato Per Andare In attacchi Non andai in difesa Non stiamo a fa niente Si non ma vuole un pusciare Quello Dove Perché Non vedete Poi C'è una Sittattica Di gioco Voglio sapere Ma che cavolo Vuoi Amichetto Che Vi Dissero Sotto Ma Che Sanno Riego Ah Uno Ha fatto fuori Godo Spammare Non è Spammare Non è Sono Le Canale Partita Oltre Dice Tanto No Ma No Abbiamo Detto Non Potete Spammare Che Canale Partita Sempre Quattro Fede Stiluridi Si Apera Non Capisco Che Secondo Quello Che Quelli Spammare Quella Non è Spammare Famiglietta Sto Rientiamo Nessuno Nel Tre Anzi Nel Due Aspetta Ma Se Proprio Cretino Vada Non Dovete Venire Da Noi Simone Simone Raga Ma Simone Se N'è Andato Come Vabbè L'altro Amico Che C'è Eh Ho Sbagliato 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 Simone Sbagliato Di andare Al team Due Io Sono andato Al team Due No Andiamo Sempre Nel Tre Allora Non Nel Tre Voi Nel Uno Quello Che Volete Simone Vai Nel Canale Partito No 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 Io Vado Nel Tre Abbiamo Quello Nuovo U Spassa E io C'ho Questo Molto Ma Perché Perché Abagano Gruppo Simone Fede Cioè Io Tra un po' Crede Me ne Vado Da Sola Andando Andando A Bannone Entrambi Che è Successo Che è Successo Un Giragano Purtiamo No Lore No Lore Mi Sono Stufato No Adesso Mo Vieni Giochiamo Solamente Chi E Te Non Mi Ha Di Giocare Con Loro Vieni Torni Kias Do Ma no registrando un audio no registrando un audio salve 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 che facciamo simone dove è andato non ve lo dico io non sento Mauro mi sa che si è tolto le cuffie oppure si è disattivato l'audio non lo so dopo non ha proprio lasciato il vocale attivo massimo non gioca più no ma Mauro ma che fine ha fatto Mauro Mauro morto ha scritto non vi sento e nemmeno io sento lui però nemmeno noi sentiamo loro lui di riavviare il gioco no ma io devo pure andare ciao 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 ecco mi sono disattivato l'audio ma perché Federico se è andata ho detto che se ne due è andata ah dai andiamo a fare copio ok ma pure Simone si deve andare ma si è andata a mangiare mi fa mangiare a questo orale non lo so c'è sicuramente mangio a questo orario ma solo perché mia madre volendo a letto presto quindi però ma di solito una volta era andato pure a mangiare alle 7 20 ma io non c'ho proprio fame alle 7 no ma io ormai mi sono abituato conta perché comunque vabbè sì dopo un po che lo fai normale se lo sentite interessato dite di fare gli incarichi ottieni scudo usando le posizioni scudo piccoli in una singola partita falli tu perché no non è il pasto quindi è inutile poi vediamo quindi devo farmi tanti scudini non lo so metti del ping per dove andare danneggia veicoli avversari con un cucine di precisione pesante cura le forze dei 7 con la cura nebbia nel luogo di una battaglia si è forte prossimi si quel colpo sei morto infatti c'è conta e fa 137 in testa l'unico problema che spara un colpo e poi dei subito ricarica e se era due colpi era up così è giusto no però hanno fatto bene perché sennò se no era troppo troppo dirà anni ma due hit manco è morto esatto andiamo lì poi di andare dire di andare anche a croceria e finiamo la battaglia così ci da tutto quel ben di dio c'è minimo un team credo si tre tre quattro player ci stanno andiamo alle case alle case però andiamo questo è qua sopra questa vai si diceva un tipo 2 andiamo a questa mano della rossa c'è uno salto e lo vado ad ammazzare bello io una pistola puoi venire per fuori morta a terra perché almeno ce lo togliamo subito è che io un revolver e ba e da me ci sono due ceste questa cosa mi traietta e scildini buono vieni da me ti do uno scildino mi mi ha detto mi ha detto ok il io fare fare 25 danni 25 e 25 e perché devo fare una missione nel quale utilizzare tre scudini ma una partita venite paratemi nel vostro battaglio buongiorno 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 ti presento pepe fetish buongiorno dai fammi danni ammeli che te sta mangiare nove fonti no stavolta i crostini ma andiamo qua no mauro c'è questo qua con eh da me c'è un assalto se vuoi poi no c'è questo qua che sta provando a farmi quello della kill con il cecchino da vicino senza emirarmi non no ti mi faccio prendere sono morto amico no 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 non lo starai ci divertiamo no dai mi stavo divertendo no ladro no no aspetta fammi fare dei danni dai mi basta va vai troppi 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 ah ah arriva ah ah dove è te morto ok guarda che pompa c'è no no bastava no di meno danni signor player e infatti ah no già ce l'hai e facciamola bomba scudo si vai hummle hummle un attimo mi devo cambiare a un posto eh eh ah 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 non mi ricordo bene però c'è giocato qualche volta è forte a giocarci a fallout ma chi ci sta giocando ha capito la sua madre ora in zona fanno due tanto tranquillo vai sicuro ho capito amore mio i colpi ha un solo colpo non ce l'ho te l'ho dato per quello ha sparato tipo 75 colpi ha scritto qualcosa federico vignaroli su un gruppo cosa non lo so un attimo che guardo il gritto mauro io ho smesso ho fatto 2 3 io direi di andare a crocevia crocevia come la voglia camare ma che è sì maestra 3 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 4 3 4 4 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 10 12 12 11 12 11 11 12 13 14 14 15 15 15 15 14 è una ragazza da me e vabbè sandro gli odio mi ha detto che moriva sono morto chiama onestamente sono la gente vabbè da capito c'è un busto della battaglia un un carro armato non sto facendo nulla hai leggermente spammato leggermente le giovani no solo con la persona perché stanno a più forti bambini a prendere due anni e lì ci sono dai ma no no li sta ammazzando dato c'è tutte le guardie contro ora tanto l'ho fatto poi la scheda alta terra mauro salire terra c'è gente nostra ma la terra è il compagno ma nell'autobus ma che nell'autobus me fa esplode questa come ha fatto a vederti dalle h no non è un'immensità di verde c'è anche un buco da dove vogliamo fare un po di creativo vai metti insieme però stiamo è sì 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 non metti pubblica metti pubblico ho fatto allora non ti emozionare se poi mi incomincio a battere semplicemente perché dopo un po incomincio a stancarmi ti incrementi a franciare non c'era niente c'è stata una giornata dove se c'è un 3b1 io ero gli ho battuti varie volte però mi si è cominciato a stancare perdevo sembra vorremmo che è bravo di quello con le compagni ma ultimamente mi sto rivalutando i compagni non già inizia dove uno manna i ragazzi ora ci troviamo a privata che c'è massacri no insieme ragazzi insieme perché no guarda no guarda ho messo pubblica sono meglio perché tutti loro esatto sì certo perché io io basta che battoli parte be già ho fatto fuori quattro universi sempre adesso la via lattea esplosa quanto l'abbia questo sta leggermente la g5 fps si serve alla vita la 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 che giochi da play spiata play che da con più ragazzi voi voi sapete no va bene a queste davvero un botta a pedale quello che ho messo l'esplode di emozioni è chiaramente perché il senso guarda non è senso quello che vedete adesso da che sta gioca da che sta gioca no il 5 5 raga nel 5 5 5 5 5 il numero ok o se troviamo quello nuovo lo vedete da no dicendo che la roba cosa c'è mauro grazie tieni questa c'è chi non fiamma di drago raga questo prendete il bombardamento raga il bombardamento io guardo al 3 guarda il 2 io ora quello arancione no non so cosa vai magari vai l'anno dei potenziali fusi da comando ma si si ma un po' di onda si si controlla mario non riesce nessuno la capo che al 22 al 22 e mi hanno dilaterato mannaia da me c'è no da me venire aspetta oh me sparano con lì a sinistra per tutte le direzioni aspetta che mi faccio un medico e se merito raga senti che siamo fuori ma questo come fa a prendermi ogni stanta volta volevi che volevi fare soluzione raga che dire di farlo cadere con il team 1 prende fuoco dovrebbe prendere ragione a one che è quando sandro si ha trovata tra un momento raga scidone però non avete rubato usate e prende la cildone da amato lo devi fa scusa è troppo tardi ci sparano come da dove è infinele ma da dove qua vabbè scindate che ha una mira qua tanto eh mi bloccano sti non posso dire che ti sei bloccato da solo vero no 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 è un'illusione sì è un'illusione è un'illusione chiaro vabbè ci abbiamo tanto voglio c'è un tipo che non mi ha mai soglia infatti ma che è allora la mia amore la sua al 4 raga 4 5 5 mauro sempre lo stesso se non so la gente ok 5 e fine fine ordinarà nanna nanna il tasto ps quello che mi piace in mezzo cecchino bravo adesso no premi ma che vuoi la sua ma sopra raga posso lanciare destra il big piccolino destra o della rega c'è gente col big tirano ma perché così vicino ma la zona adesso ma capito ai tenti a non so se non tanto ci bag perché il gioco ps4 del ps5 ma che è sopportato giro 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 34 strada quello rega è quasi una shield con lo set attenti o un baccechinato mai servono flopper 32 a quello gente e vabbè era entrato da dietro da dietro e non lavoro me vado ma poi quando che non ho sentito i passi 5 di vita frate aiutami 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 non posso c'è 5 di vita aspetta va bene aspetta vogliono pure vita ho togli di credere ho tre di vita rega la zona mi fa danni vita quindi sto morendo 3 di vita ce l'avete pure vita per fare no ho usato l'ombra raga ho usato l'ombra per cui per fortuna un pazzo maniaco sono morto da danni di caduta oddio che intelligente ne che stavano ma da dove dalla non lo so questi proprio come sarà sopra copri sopra coprire no chi troppo scendone vai e anche questo che queste parti fanno trasformare l'ombra lo so lo so come funziona eh no che ne so vai ma chi sei tanto ti vedono tutto no lo prendo no builda 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 vabbè sei tipo 1 v5 sat ma perché non c'è più il pompa ne l'ho lasciato per la bomba scudo quali bomba scudo? bomba ombra? la bomba ombra rimani tanto col deltaplano vai no no da ecco ok scendi prima come a terra prima e laser lì per lasciare vai vai sopra terra sopra il laser l'ho sento che ti arriva con la mitraglietta ii ma ma da dove questi arrivano scusa erano sotto dio dietro vabbè 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 eh sì vabbè peggio delle formiche tanto molto arrivano dall'alto è impossibile che se lo fa dietro mamma mia no vabbè vabbè sa che fa una prova è arrivato qui attivamente arriva a bulgaro a bulgaro questa è della bulgaria aron bulgari no non credo sia bulgari bulgaro in realtà è sai magari si chiama aron bulgari magari è bulgari come quando dici bulgari ma è il mio membro ma è il mio membro è bulgarese è bulgarino oh non sto scherzando oh mauro tu hai visto oggi la scivolata che ho fatto no ragazzi se non muoce la pompa che è? la scivolata durante l'ora di educazione fisica no no mauro ti sei perso ah sì allora sì scusa vero me l'ho dimenticata no ok ha salvato ha fatto un voto no quanto vado seccate? no guarda seccate con dopo il mio maiale forse lo fa no ma che cosa 46 da 200 metri fa 46 godo godo comune da come ha fatto a fargli così tanto da lontano forse questo con papi e faccio un colpo no infatti ragazzi ogni volta cacciungono un po' è sempre più ma infatti poi dopo un beletto conto che hanno fatto la cavola del loro di potenza no esatto ormai sempre così se io ero questo tipo qua io adesso avrei militato inferno attorno a questo qui e l'avrei bloccato nella testa esatto ma che poi scusano ogni volta è il ventesimo pompa che mettono e ogni volta è sempre rotto lo devono dei potenziati ma poi c'è uno lì viola ma prenditelo sciocco ragazzi si è ricordato su qua no 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 trovo la serata eh ho capito che si mette muri sopra c'è questo ragazzi però questo qua non sono più evidente no no giuro che se rimane chiuso fuori codo niente ma sei lì prenditelo ma sei lì prenditelo no no non sarei meritato questo per niente ma pure quello sopra che rimane lì fermo come non lo so cosa come una statua come un salame vuoi morire sempre ragazzi devo andare come come mi chiedo come una lorenzo mi da giocare poi se ne andavamo da seguire mi chiedo mi chiedo mi chiedo mi chiedo mi chiedo oh spaz prendetelo io ho quello nuovo no no io ho la capa adios 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 a tutto il mondo no